Ultimi giorni per iscriversi al bando lanciato dalla Caritas della Spezia per prestare il servizio civile? Il bando è già attivo come appunto per partecipare al servizio civile universale con Caritas la Spezia e i ragazzi, contrariamente agli anni scorsi, quest'anno dovranno connettersi e partecipare al bando da internet quindi basta seguire il nostro sito Caritas Online e troveranno il link diretto per l'accesso alla pagina. Vi ricordo che per questo è necessario lo speed. 12 posti disponibili, quali sono le varie sedi? Allora, le sedi disponibili sono sul territorio di La Spezia e Sarzana, alcuni posti sono il CDA di La Spezia, altri il CDA di Sarzana e poi per altre informazioni su tutte le altre varie sedi, area giovani o altre sedi sul territorio Spezzino vi rimandiamo comunque al sito che ho già detto prima e inoltre anche all'area giovani di Via Chiodo, Via Chiodo 24 e mandare una mail o passare appunto all'indirizzo e la mail è il pointchiocciolacaritasdiocesana.it Quali sono le caratteristiche richieste? Allora, un volontario in servizio civile innanzitutto deve avere molta voglia di fare e mettersi in gioco perché questo, come si dice spesso, questo progetto, queste progettazioni sono rivolte agli ultimi quindi a persone in stato di necessità e è un'occasione di crescita quindi invito tutti i ragazzi, non l'ho detto prima, ma la fascia di età va dai 18 ai 28 anni compiuti quindi prima dei 29 anni, diciamo così e l'importante appunto è questa volontà di mettersi in gioco e quindi al servizio del prossimo oltre ai contatti già dati, il numero di telefono eventualmente da contattare dell'area giovani di Caritas è 0187 25 71 57 Grazie